Non ce la faccio ragazzi Ma quanto pesa sta cosa? E tu che fai? Mi guardi e non mi dà la mano? Vieni Nero aiutami, vieni qua, gira Sai dove sei? Sai, sai, sai Ma no, non mi hai aiutato, mi hai fatto fare tutto a me Non mi hai aiutato, mi stai morendo Sono stanca, io sono ben messi i bacini Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Ragazzi guardate che cosa c'è qua Finalmente è arrivata Oggi video unboxing È arrivata la mia Cooler Master Wow ragazzi non vedevo l'ora che arrivava E finalmente è arrivata Eccola qui, Cooler Master Lo so, non sono una gamer Ma sono una youtuber Volevo la Cooler Master E l'ho presa E adesso l'apriremo insieme E vediamo com'è Siete pronti? Prendo il coltello e l'apriamo subito Ragazzi vi dico solo che per salirla qua sopra Ho perso 50 anni della mia vita Guardate, è pesantissimo Però qui ci deve essere scritto quanti chili è 25 chili ma che sarà 50 chili è pesantissimo A parte che è gigante lo scatolo Non riesci a prenderlo bene Immaginatevi voi io così a salire le scale Ero distrutta Comunque ragazzi Banda le ciance Apriamo questo scatolone perché sono curiosissima di vedere la mia Cooler Master Intanto ragazzi mi sono munita di coltello con la punta rotonda Perché ho paura di bucare la mia Cooler Master Piano piano Olè Olè Questo lato di qua Olè Uno Mamma mia ragazzi Ok Due Usate eh Passa Di striscio non passa Vediamo adesso se passa Voilà Si passa Allora Ah perfetto C'era un altro scatolo all'interno All'interno Mamma mia quant'è sto scatolo Cooler Master Già inizi a vedere Oddio Il sotto della portoncina Allora conviene Che lo scatolo Lo scendo giù E prendiamo Guardate Vieni questi sono Lerone che stai facendo Nero Sta giocando col cartone Oddio mi fai cadere tutto Si è rubato il cartone Nero Te la vieni Ma come lo devo fare io il video con lui Lo sta facendo diventare mille pezzi il cartoncino Ma lo sentite Nero Stai calmo Che devo fare il video per favore Please Grazie Allora La Cooler Master È così Adesso ci dobbiamo munire Di libretto di istruzioni E dobbiamo vedere come si monta Ma è tutta smontata Riuscirò a montare la mia poltroncina Lo scopriremo Sto vivendo Ragazzi è tutta smontata mille pezzi E quanti pezzi sono? Non lo so Guardate qui Guardate Guardate il libretto di istruzioni Lo vedete? Guardate Tutta a pezzi e pezzi E tutta a pezzi Vediamo se ci riusciamo Dai Nero Non lo so se riesco a fare questo video oggi Guardate quanti viti ci sono Insomma Un sacco di viti Ci dobbiamo sbrigare La devo montare entro stasera Aiutatemi Ho bisogno di un buco Da qua non riuscirò mai No non è vero Ci devo riuscire Allora questo Qui ci sono E il sotto Iniziamo ad aprire questo E il primo pezzo è libero E voilà Andiamo con il secondo E' bellissima E' bellissima Guardate No Nero Tenetevi andare Ora ti chiudo E' bellissima Ma io ce la devo fare Trasformazione di quarto livello Ora picciotti comincia un burdello Come sei bello Come sei bello Quando ti affacci da questo castello No ragazzi Non ci fate caso Sono troppo felice Che è arrivata Finalmente Ora ti voglio montarla Ora montarla La prima parola E vabbè Ci riuscirò Pure le rotelle smontate ci sono Non è possibile Non ci credo Le rotelle Dove siete Dove siete Le rotelline In frattura Conciate Questo è Questo che Ok Questa parola Non ci serve Diciamo che forse Ho capito Forse Wow Guardate qui Che bella Wow Bellissima Questa va qua E ci sono Delle viti Da agganciare Perfetto Le viti sono L D N L Qua Ma non è una D E una O Quindi L O N Ok Mamma che bella T'ha definita E' pazzesca ragazzi Ci riusciamo Lady Ri Riesce in tutto Alla fine non ci riesco Le viti Chia 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 Eccolo. Allora, mettiamolo qui e iniziamo a stringere i viti. Sedile. Abbitato. Vai la di lì! Fuori uno step. Andiamo col secondo step. Intanto montiamo le rotelle. Ecco le rotelle! Trovate! Questi vanno messi a scatto. Uno, due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro e cinque. Uno. Mi devo sedere, sono stanca morta. Oh, che voglio! Oh, che voglio! Oh, che voglio! Oh, che voglio! No, niente, amore, sono riuscita a mettere tutte le girelle. Qua, le rotelle. Ok, adesso girano benissimo. Oh, che voglio! Oh, che voglio! Ah, allora! Oh, che voglio! Oh, che voglio! Oh, che voglio! Oh, che voglio! e la sedia è stata tutta avvitata adesso dobbiamo unire la sedia con il sotto della sedia e adesso dobbiamo vedere come fare continuiamo! riusciremo di qua stasera a finire questa sedia? sì, secondo me finiremo e dopo un'ora e nove secondi dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici secondi sono riuscita a montare la mia Cooler Master non ce la faccio più fatemi riposare qualche secondino e arrivo subito da voi comunque ragazzi ci sono riuscita in un'ora a montare questa bellissima sedia che adesso ve la farò vedere bene fantastica la desideravo da tantissimo tempo ragazzi adesso ve la farò vedere meglio guardatela ragazzi la mia Cooler Master è fantastica cuscinetto sopra cuscinetto sotto bellissima bellissima bella vero? yes adesso ragazzi la mia poltroncina bianca di Ikea può anche andarsene e userò la mia Cooler Master bellissima ragazzi bellissima la desideravo da tantissimo tempo e finalmente eccola qui e ci sono riuscita a montarla comunque ragazzi ho notato che qui dove c'erano tutte le viti c'è ci sono delle viti se a caso me le prevedevo qualcuno infatti c'è scritto spare e questa la terrò messa da parte non si sa mai questo di qua lo terrò anche qui comunque ragazzi il video termina qui spero che questo video vi sia piaciuto se ti è piaciuto mi raccomando lasciate un bellissimo like e se non siete iscritti nel canale iscriveteli e non dimenticate di attivare la campanellina così verrete avvisati se farò qualche diretta o se metterò qualche altro video ok ragazzi mi raccomando noi ci vediamo sabato a sabato ciao ciao